Buongiorno, allora faccio una breve recensione di questa maschera con filtri occhiali e l'ho già provata perché ho dovuto scarte vetrare un mobile e quindi per evitare di respirare polveri e cose varie l'ho utilizzata la maschera invece l'ho utilizzata per verniciare perché dovevo verniciare il tetto e quindi mi cadevano le goccioline in viso, almeno ho protetto gli occhi allora, la maschera si comporta molto bene, è facile, è molto facile da agganciare e soprattutto è comoda, non dà fastidio l'ho tenuta per un'oretta in viso e non mi ha dato per niente fastidio in ogni caso lascio un po' di segni nel naso, principalmente questa parte qui però direi che va più che bene i filtri sono questi qua, che sono dei filtri doppi qua all'interno di questa parte grigia c'è un filtro e poi davanti si mette un altro filtro di tipo classico epa dovrebbe essere non ne sono sicuro comunque i filtri sono praticamente questi eccoli qua e ovviamente quello più importante è quello contenuto al suo interno che filtra la maggior parte delle impurità delle particelle se non ricordo male, la percentuale di protezione da particelle è del 99,9% se non qualcosa di più cioè non vorrei dire una stupidaggine però in ogni caso a me ha funzionato bene ho fatto anche una verniciatura con una bomboletta spray di uno spray trasparente e ha filtrato anche molto bene l'odore perché ho fatto una prova anche a dare qualche spruzzata senza maschera e effettivamente si sentiva molto di più quindi direi più che soddisfatto soprattutto per il prezzo acquistata su Amazon in offerta a 22 euro questa qui